eccoci qui ragazzi buonasera a tutti voi benvenuti in questo nuovo video prima di iniziare volevo salutare dei miei amici youtuber il joker nerazzurro nerazzurro skin e la tana dei lupi sono tre miei amici youtuber vi invito a iscrivervi ai loro canali a seguirli perché sono dei ragazzi dei tifosi veri veraci che hanno amore per la propria squadra inter e roma bene ragazzi allora di cosa parliamo oggi io sapevo che dovevo fare questo video oggi lo sapevo lo sapevo lo sapevo perché come al solito quando a roma succede che tu perdi una partita in questo modo cioè praticamente non giocando e attirando numerose critiche cosa succede che si butta una marea di fango sui giocatori allenatori società e tutto quello che hai fatto di buono finora vale a dire l'imbattibilità che ha avuto tra campionato e coppa va a farsi benedire e la roma torna a essere una squadra come ho visto in alcuni video di altri youtuber che dicono di essere romanisti ma poi a fine sono romanisti soltanto quando si vince quando si perde pensano solo a strillare a sfogarsi invece di stare vicino alla squadra perché proprio in questi momenti che tu devi stare vicino alla squadra devi fare una critica devi criticare devi essere deluso questo è chiaro non dice nessuno che devi essere contento ma non devi esagerare con gli epiteti le parole e giudicare i giocatori e allenatori in maniera così infamante buttando fango a destra e sinistra senza nessun criterio io ho sentito addirittura che questa è una partita da ufficio inchiesta della figc perché la roma non ha proprio giocato si è venduta la partita col napoli perché il napoli giocava per maradona allora la roma ha voluto essere la vittima a sacrificale cioè delle stronzate inaudite ho dovuto sentire altri che dicono mercenari vergognosi ma di tutto e di più ho sentito in questa in questi ultimi due giorni ragazzi e io ripeto sono il primo a essere deluso sono il primo che critico i giocatori perché non hanno giocato sono il primo che fa una disamina autocritica su tutto quello che è successo a napoli e cercando di valutare non solo comunque l'aspetto del risultato ma anche tutto l'aspetto tecnico tattico con cui noi abbiamo affrontato la partita di napoli non vogliono essere scuse queste qua sono cose oggettive che sono sotto l'occhio di tutti quindi io poi mi meraviglio quando sento delle cose come se la gente cadesse dal pero capito perché è chiaro che la roma abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno a una squadra di 12 massimo 13 giocatori che possono giocare titolari gli altri sono giocatori che non sono all'altezza di giocare alla roma giocatori che non hanno più nulla da dare alla roma vedi i vari guangesus santon i fazio questi qua giocatori che non stanno attraversando un grandissimo momento di forma perché comunque sono reduci dal covi dei vedi zego e pellegrini giocatori discontinui che non riescono a trovare la loro continuità tipo carles perez giocatori infortunati perché noi non dobbiamo scordarci che noi domenica giocavamo senza praticamente la difesa e concedere la difesa titolare in questo momento a una squadra come il napoli che davanti a gente come lozzano politano martens insigne e osimena anche se era infortunato contro la roma è chiaro che tu vai in enorme enorme difficoltà se poi ci mettiamo pure il concetto che domenica mirante ha fatto la sua pergiù partita con la roma perché su almeno due di quattro colle colpevole ci mettiamo che spinazzolo non ha spinto come ha spinto di solito ci mettiamo che abbiamo incappato in una giornata nera di impetro e michiterian che finora erano stati i migliori della roma dal punto di vista del rendimento abbiamo un quadro completo di perché si sia perso a napoli in quella maniera è chiaro che perdere così non ci sta perdere a napoli in queste condizioni ci può anche stare perché tu non puoi fare a meno di smolling non puoi fare a meno di kumbula non puoi fare a meno di mancini dopo mezz'ora e giocare una difesa guangesus e cristante i banez in condizioni fisiche non ottimali è chiaro che va in enorme difficoltà ed è quello che è successo soprattutto nel secondo tempo anche se poi se vai a analizzare i gol uno su punizione coppavola di mirante l'altro di martens il 3 a 0 davanti alla porta solo perdono i difensori ma lì mirante praticamente fa un'altra mezza papera il terzo dipolitano che gli fanno fa come gli pare senza nemmeno contrastarlo a fine partita per cui poi il risultato si ingegantisce e sembra molto più peggio di quello che in realtà è successo è chiaro che la roma non può far meno di certi giocatori è chiaro che stavamo in difficoltà che siamo arrivati a giocare con il napoli nelle peggiori condizioni possibili ed è chiaro che la roma ci ha abituato perché il tifoso romanista lo sa benissimo che si incappa in queste figure barbine ogni tanto cioè il tifoso romanista sa che prima o poi la roma la sua figura di merda durante la stagione la fa perché noi siamo legati alla sofferenza il tifoso romanista è un tifoso vero perché è legato tra loro dalla sofferenza dalle poche soddisfazioni e dalle sofferenze per questo i tifosi della roma sono tifosi veri che però devono stare vicino alla squadra anche in questi momenti e la maggior parte dei tifosi fa così altri invece non fa così ed è questo che mi dà enormemente fastidio perché la partita di domenica era una partita che la roma non aveva iniziato nel peggiore dei modi i primi 15 minuti poi comunque il napoli ha preso campo evidentemente stavano meglio fisicamente meglio mentalmente avevano qualche motivazione in più della roma la roma come abbiamo detto ha beccato la sua giornata nera in cui tutto è andato storto dalle prestazioni dei giocatori agli infortuni all'ambiente a tutto quanto non per questo bisogna buttare amare tutto quello che di buono è stato fatto prima di napoli perché noi siamo eravamo la squadra a detta di tutti prima di napoli che giocava il miglior calcio della serie a insieme al milan naturalmente che sta facendo un campionato strepitoso adesso siamo diventati non eravamo dei dei fenomeni da scudetto prima e non siamo dei brocchi da decimo posto in questo adesso ci serve sempre un equilibrio nelle cose uno spirito di autocritica di vedere di leggere le partite di vedere cosa succede cosa è successo cioè noi se avevamo anche quel punto che c'è stato tolto a tavolino contro il verona stavamo a 18 punti secondi in classifica insieme a inter e sassuolo cosa che a inizio di campionato nessuno avrebbe pronosticato mai nella vita visto che ci davano spacciati fin da inizio del campionato e invece la roma ha dimostrato invece di essere una squadra forte che può fare bene ma che purtroppo ha una rosa limitata che va assolutamente punterlata a gennaio per cercare veramente di andare a prendere questa benedetta qualificazione in champions bisogna essere anche obiettivo è chiaro che squadre come milan juve inter e napoli hanno delle rose costruite meglio hanno dei giocatori più forti una rosa più completa ma questo non vuol dire che la roma non se la possa giocare con tutte queste squadre per andare in champions perché ha dimostrato che può farlo benissimo a patto che i tifosi quelli veri e so che sarà così stanno vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà come questo e come hanno fatto per tutti gli altri youtuber che vedo su youtube tifosi sui gruppi di facebook che cominciano a buttare fango già dopo questa prima sconfitta dico cambiate squadra perché non voi non potete essere tifosi della roma ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale campanella tanti like e ci aggiorniamo al più presto